Imponente operazione anticontraffazione ad Agrigento, dove il nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Municipale ha scoperto una centrale di riproduzione illecita di GD e DVD, sequestrando circa 3.500 supporti digitali pirata. Le operazioni, coordinate dal comandante Cosimo Antonica, si sono svolte lo scorso 1 febbraio, in occasione delle operazioni di sgombero degli immigrati residenti in abitazioni fatiscenti del centro storico. In un magazzino di via Cannameli, gli agenti hanno rinvenuto un computer con sette masterizzatori e circa 3.500 tracci di musicali, DVD e videogiochi, tutti rigorosamente falsi. Il comando di Polizia Municipale Agrigentino ha trasmesso tutti gli atti inerenti al sequestro alla Procura della Repubblica di Agrigento, che aprirà un fascicolo d'inchiesta per far luce sui responsabili degli illegiti scoperti. Alle operazioni eseguite via Cannameli, oltre ai vigili urbani, hanno partecipato anche il personale della Polizia di Stato della squadra mobile dell'Ufficio Immigrazione della Digos. Per quanto concerne invece le notifiche di sgombero del centro storico cittadino, diverse sono state le ispezioni personali che gli agenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura hanno effettuato nei confronti di immigrati. I poliziotti, in seguito all'identificazione di otto cittadini senegalesi, ne hanno segnalato uno per inottamperanza al decreto di espulsione dal territorio nazionale. Sempre nel corso delle stesse operazioni sono state due le cittadine italiane abitanti in due distinti immobili, fatte allontanare dalle proprie abitazioni, dichiarate inagibili.